Con il sindaco di Lorito, di Spoltore, parliamo di questo primo matrimonio civile che ci sarà a Spoltore il 22 agosto. Una notizia comunque che ha fatto un po' il giro di tutto l'Abruzzo, sarà proprio la città che lei presiede, sindaco, ad ospitare questa cerimonia? Noi abbiamo semplicemente dato seguito a quella che la legge prevede, quindi so che altri comuni in Italia hanno già fatto. Mi dicono che siamo il primo comune d'Abruzzo, ma sicuramente a breve si aggiungeranno anche altri. Abbiamo dato seguito a quella che è una nuova legge per quanto riguarda le unioni civili. Non sarà lei a celebrare il matrimonio, però tanti sindaci hanno avuto qualcosa da ridire su questi matrimoni, invece qui a Spoltore da questo punto di vista non ci saranno problemi? Assolutamente no, perché noi dobbiamo dare seguito alla legge, guai se non facessimo questo, non rispetteremmo la legge. Questa è la legge, ognuno ha le sue opinioni rispetto alle leggi, ma comunque vanno fatte rispettare ed applicare. Quindi qualora dovesse esserci la possibilità nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, di celebrare un matrimonio con rito civile qui a Spoltore, non ci saranno problemi da questo punto di vista? Assolutamente no, non ci sono problemi così come non ci sono problemi per altri matrimoni.